Cazzaro. Ma mi sembra anche un complimento applicato a Salvini e tutto sommato applicato anche a Renzi, ma la premessa è che sono un cazzaro anch'io, lo scrivo nel libro, quindi cazzaro è anche un'accezione per certi versi simpatica e affettuosa in alcuni casi, è un po' il fanfarone, è quello che entra al bar e dice sono bravo solo io. Poi non l'ho neanche sdoganata io Luca, l'ha sdoganata Marco Travaglio perché è stato lui il primo a chiamare Cazzaro Verde Salvini, Salvini non gradì, lo ha querelato e alla fine la causa l'ha vinta Marco, quindi si può tranquillamente utilizzare anche da un punto di vista legale. Cosa ha detto la giurisprudenza applicandosi a questo lessico? Perché è esercizio di critica e satira legittima, quindi quando io ho scritto il primo libro dei due, il Cazzaro Verde, spiegavo esattamente la sentenza, ma lo sa benissimo Salvini altrimenti non avrei mai fatto un titolo di questo tipo. Sai secondo me la definizione...